Il linguaggio della concretezza, dell'immediatezza è spesso alla base dei discorsi di Gesù. In questa quindicesima domenica del tempo ordinario vediamo il Vangelo di Luca al capitolo 10 che ci presenta la famosa parabola del buon samaritano. Gesù risponde ad una provocazione, ad una domanda fatta da un dottore della legge che gli chiede una domanda ben precisa, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? La risposta è data a lui attraverso un'immagine molto concreta. Un poveraccio incappa nei briganti che lo depredano di qualsiasi cosa e lo lasciano a terra, mezzo morto. Passa un sacerdote e passa un levita, ma per non contaminarsi e rimanere staccati da questa persona persona che avrebbe potuto in qualche modo rendere impura la loro vita, passano dall'altra parte. Un samaritano è colui che si prende cura di questo poveraccio e lo porta presso un albergo. Fascia le sue ferite, si prende cura del vitto e dell'alloggio. Attraverso un'immagine Gesù vuole insegnare a questo dottore della legge che la carità è prendersi cura, è avere compassione, compassione cioè patire insieme, entrare in empatia con l'altro, sentire che non c'è semplicemente una carità spicciola che è determinata da un dare, ma è un entrare in empatia, un sentire la sofferenza, un sentire che anche la sofferenza condivisa può diventare e diventa sicuramente un rilancio per la vita. Condividere, portare quindi la stessa croce è davvero cristiano, è davvero un gesto di amore, di amore cristiano, di amore condiviso. E chiaramente Gesù risponde, fa anche tu lo stesso, perché tu possa essere capace di gesti di amore. Sotto a questo brano ovviamente risalta anche la virtù dell'umiltà. Essere umili vuol dire accorgerci dell'altro, del bisogno che ha l'altro, anche nella sofferenza, anche nella tristezza, nell'agonia. Ecco, noi possiamo essere capaci di supporto, di aiuto, di prendere anche noi un tantino il fardello dell'altro, soprattutto quando quest'altro non ce la fa da solo. Non siamo lì apposte, quindi possiamo davvero portare a casa da questa parabola questo atteggiamento che ogni occasione diventa capacità di riconoscere nell'altro il volto di Dio e quindi sapere che nelle membra sofferenti del fratello c'è una possibilità di bene e anche il dono della vita eterna, perché immediatamente dietro a questo volto c'è anche la ricompensa eschatologica di un termine ultimo e unico per noi che è il conseguimento appunto di questo tesoro celeste. Grazie 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 Grazie